Pasqua con chi vuoi? Complice il bel tempo, in tanti sceglieranno la montagna per una gita fuori porta durante le festività. Ma il soccorso alpino avverte, la montagna è di tutti, ma non per tutti. I dati parlano chiaro. Negli ultimi cinque anni, nel territorio gestito dalla diciannovesima delegazione lariana, il numero di interventi di soccorso in montagna è cresciuto costantemente, passando da 335 nel 2018 a 382 nel 2019, 416 nel 2020, 433 nel 2021 e 487 lo scorso anno. Se un tempo ci si avvicinava con rispetto e un passo alla volta alla montagna, spiega il soccorso alpino-speleologico Lombardo, accompagnati dagli esperti, dalle guide alpine o attraverso il CAI, adesso sembra esserci la tendenza a considerare tutto facile e immediato, magari perché si vede la foto di una bella escursione dell'amico sui social e si vuole ripetere l'esperienza, senza che però ci siano i presupposti per affrontarla in sicurezza. Molti degli interventi, infatti, sono dovuti alla mancanza di conoscenza dei luoghi, a una percezione delle proprie capacità non corretta e alla scarsa attenzione nell'organizzare un'escursione secondo le indicazioni di base. A tal proposito, Alecco si è tenuto un incontro per fare il punto sull'importanza di un'informazione corretta nella prevenzione degli incidenti in montagna, che ha visto la partecipazione del presidente del soccorso alpino-speleologico Lombardo, Luca Vitali, il delegato della diciannovesima Lariana, Marco Anemoli, il capo stazione di Lecco, Massimo Mazzoleni, e il vice capo stazione, Giorgio Molteni. Tanti dispunti di riflessione emersi. Innanzitutto l'invito ad avere organizzatori preparati durante le manifestazioni di carattere sportivo o comunque legate alla montagna. È importante, spiegano i soccorritori, che la sicurezza del percorso, l'impatto dell'evento sul territorio e l'utilizzo di materiale ecocompatibile siano gestiti al meglio. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la manutenzione dei sentieri e la valutazione di percorsi specifici per le bike. Collaboriamo da lungo tempo con associazioni realtà del territorio, conclude il soccorso alpino, per ricreare una cultura dell'andare in montagna più consapevole e attenta ai temi ambientali. L'obiettivo è quello di informare in modo corretto e completo senza cercare polemiche pretestuose per tutelare la vita delle persone che amano le escursioni, l'alpinismo, lo sport e la montagna.